Il rosmarino è un arbusso aromatico molto profumato, utilizzato in cucina per guarine e insaporire le pietante, coltivato in vaso su terrazze e balconi, può essere considerata anche una pianta ornamentale. Pur essendo una pianta piuttosto rustica, il rosmarino richiede alcune cure fondamentali per avere un corretto sviluppo, un colore verde intenso delle foglie e per esaltarne il tipico profumo. È una pianta arbustiva perenne, sempre verde, che è coltivata in vaso e non supera gli 80 cm di altezza. Possiamo acquistare delle piantine già sviluppate presso garden e vivai, in genere in primavera, e trapiantarle in vaso di un diametro di almeno 30 cm. Utilizzeremo sul fondo del vaso sempre dell'argilla espansa e come terriccio il terriccio universale biologico garden torfi. Per favorire l'attecchimento delle piantine acquistate al momento del trapianto o alla ripresa vegetativa in primavera, utilizziamo il concime granulare orto domestico 1, concime biologico che andremo a posizionare sul terreno, intorno alla pianta. lo interriamo poi leggermente e il richiamo. In questo modo le piante non subiscono stress in caso di trapianto o alla ripresa vegetativa crescono più forti e rigogliose, emettendo nuove foglie e nuovi germogli. Se coltivato in vaso, il rosmarino deve essere travasato, rinvasato con una certa frequenza, in quanto l'apparato radicale si sviluppa molto rapidamente. Andiamo quindi a ripetere questa operazione circa una volta ogni due anni. Il rosmarino è una pianta che tende a crescere sia in altezza che in larghezza, dando origine quindi a un arbusto che supporta molto bene anche i tagli di potatura, al quale potremo dare, riusciamo a dare le forme che più ci aggradano. Andremo a posizionare la pianta in un angolo del balcone, del terrazzo o sul davanzale di una finestra esposta in pieno sole o mezz'ombra. Resiste discretamente ai climi freddi, temperature però al di sotto degli zero gradi vengono sopportate per brevi periodi. È una pianta che richiede moderate irrigazioni, nel periodo primaverile-estivo infatti evitiamo di innaffiare il rosmarino eccessivamente, lasciando sempre che il terreno si asciughi tra un'irrigazione e la successiva. Facciamo anche molta attenzione ai ristagni idrici, perché sono la maggior causa di morte della pianta. In inverno, se la pianta è tenuta all'esterno, potrebbero bastare anche le piogge. Se invece è portato al riparo, andremo ad irrigarlo moderatamente. Per favorire la crescita delle piantine nel periodo primaverile, concimiamo con il concime biologico orto domestico 2. Andremo a diluire la dose di utilizzo in acqua in uno spruzzino. e con la soluzione ottenuta irroriamo quindi le foglie. Per invece aumentare l'aroma e il sapore del rosmarino, conciliamo in estate con il concime orto domestico 3. Il rosmarino va raccolto a circa 30 cm da terra. In questo modo andremo a prelevare le foglie più tenere e la pianta avrà modo di ricacciare successivamente. Può essere raccolto in qualunque periodo dell'anno, anche in estate. In questo periodo infatti le foglie saranno molto più aromatiche grazie al sole e al caldo. In primavera invece possiamo raccogliere e consumare, perché sono commestibili, anche i fiorellini che hanno lo stesso profumo e la stessa aroma delle foglioline. Il rosmarino è una pianta che, come abbiamo detto già prima, sopporta molto bene i tagli di potatura e per evitare che si spogli in basso, nella parte basale, va accimato almeno due volte all'anno. Quindi andremo a tagliare la parte superiore della pianta e questo lo faremo all'inizio della primavera o alla fine dell'estate.